o soprattutto per fare il cattivo gusto, basta con il cattivo gusto, basta con il cattivo gusto, basta facciamo delle cose, proponiamo dei contenuti, parliamo di 30 anni fa, va bene, non c'è, abbiamo fatto degli errori nella vita a votare per vent'anni una persona, diciamolo, il muro di Berlino è caduto, c'è qualcuno che rimaneva intanto, parliamone, parliamone, forse non è, parliamone, ma parliamone civilmente, anche magari alzato, anche alzato la voce, io una volta a me, Mario Giordano gli ha suggerito chi non urla è complice, vedo che lo usa spesso, lo saluto il direttore a proposito, ciao direttore, urliamo eticheticamente, mai senza cattivo gusto, basta cattivo gusto, quindi viva Notech, viva The Flat, Network e viva Emanuele Cariodi, io interromperei qui questo, questo in diretta, spero che rimanga, di comunicare con me in qualsiasi modo, penso attraverso questo, pure semplicemente cercandomi su internet, c'è il modo di mettersi in contatto con me, non c'è, io a questo punto vi saluto, e per aver fatto questo esperimento anche di mattina, ma sarà di notte poi, la trasferlo che mi sia piaciuta, la maglietta di Riccappoli Mar, ci metterò il pezzo, eh? Riccappoli.